Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le sale della Civetta, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che farà divertire molti duellanti appassionati delle vicende del faraone e compagnia a seguito. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo Structure Deck Follia Toon realizzata da Mirko Milone in arte Mirkoho. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. La scatola presenterà le tre divinità egizie, Slifer Drago del Cielo, Drago Alato di Ra e Obelisco del Tiranno, che domineranno solitari in primo piano, assieme al logo del gioco rivisitato, il titolo del prodotto e tutte le info riguardanti quest'ultimo sulla parte frontale, solamente le immagini modificate del marchio iconico del TCG in questione, con lo stesso nome dell'articolo sia sul lato destro che sinistro, solamente il nome del creatore sulla parte superiore, tutte le informazioni legali del caso sul fondo della scatola, ed una panoramica del contenuto, con il materiale che si potrà trovare all'interno dello structure descritti sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete un mazzo principale composto da 45 carte, con Obelisco il Tormentatore Toon, la prima tra esse in finitura a rara segreta, che vi permetterà assieme a supporti sempre appartenenti al medesimo mondo, di spaccare in due il campo da gioco, grazie ad evocazioni speciali continue e sinergie tra esse che non daranno pace all'avversario, trascinandolo inesorabilmente verso un mondo di follia a base cartonata, grazie anche alla presenza degli altri due dei, e a carte iconiche del mondo di Yu-Gi-Oh come Jinzo, i vari monarca, gli eroi del destino ed elementali, e alcuni mostri che hanno accompagnato lo stesso Yu-Gi verso la conquista dei suoi titoli, come i cavalieri della regina, del re e del Jack, la giovane maga nera e il mago del caos oscuro, sempre ovviamente nelle loro versioni caricaturate, e un extra deck da 12 elementi, che comprenderà mostri incredibili, come il Drago Cyber Finale Toon, XYZ Cannone Drago Toon, Uomo Alato della Fiamma Eroi Toon, e Drago Polveri di Stelle Toon, per citarne 4 tra i più, un tappetino da gioco a tema, pronto per essere utilizzato in duelli pieni di pazzo divertimento, ed una guida iniziale sul come utilizzare il deck se si è alle prime armi. Ovviamente si sta parlando di un deck assolutamente non legale in un torneo, ci saranno infatti sulla parte dorsale delle carte, dei riferimenti che differiranno completamente rispetto a quelli originali, ma per una partita tra amici, perché no? Sarà bello, e ve lo posso assicurare perché vi parlo per esperienza personale, vestire i panni di Maximilian Pegasus e la sua armata di cartoni animati. In più Mirko ha deciso di creare un mazzo che ha del bizzarro, proprio come i protagonisti dello structure stesso. Insomma, se vorrete passare un po' di tempo nello svago più totale tra una bevanda e quattro risate, di certo questo articolo vi fornirà tutto quello che vi servirà per coronare una bella giornata passata in piacevole compagnia. La cosa interessante però è che non esiste solamente questo tematico, ma diversi altri che vi aspetteranno pronti per essere utilizzati, magari anche in un torneo organizzato tra voi. In descrizione vi lascerò tutti i contatti del creatore, così potrete chiedere direttamente a lui il costo sia della follia Toon che degli altri deck che ha creato in questi anni. Prima di concludere volevo ringraziare Mirko Milone per aver fornito l'articolo mostrato in questo contenuto e per avermi fatto scoprire un mondo Toon che non ho mai avuto modo di esplorare. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno, per me e per voi, i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!